L'autorità internazionale per i fondali marini, l'ISA, ha scelto di non dare il via libera al discusso di Psi Mining, una scelta interessante anche se probabilmente solo provvisoria. Intanto, mentre diverse regioni italiane iniziano ad uscire dal meteo estremo degli ultimi giorni, nuovi studi mostrano ennesime anomalie climatiche, come quelle che riguardano i ghiacci dell'Antartide e la corrente del Golfo. Infine parliamo del fentanyl, lo piace che negli Stati Uniti è causa di una vera e propria strage che sembra aver superato la cocaina anche sul mercato globale. Io sono Andrea D'Innocenti, oggi è il 27 luglio 2023 e questa è in un mi rassegno, la segna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! C'è una novità interessante che riguarda il cosiddetto Deep Sea Mining, ovvero la pratica di esplorare e scavare i fondali oceanici all'interno delle acque internazionali alla ricerca di materiali preziosi. Spesso si tratta peraltro di materiali necessari all'energia rinnovabili o interessati in qualche modo all'interno della cosiddetta transizione ecologica. La notizia è che l'autorità internazionale per i fondali marini, l'ISA, ha scelto almeno temporaneamente di non dare il via libera a questa pratica. Via libera che è necessario trattandosi appunto di acque internazionali sulle quali nessuno stato ha una giurisdizione specifica. Ce ne parla Monica Cillerai sull'indipendente che scrive dopo due settimane di negoziati l'ISA, l'autorità internazionale per i fondali marini, ha scelto di non dare il via libera al discusso di Psi Mining, l'estrazione mineraria in acque profonde internazionali. Per ora la decisione è stata solo rimandata dal momento che la riunione per la regolamentazione si è conclusa venerdì a Kingston in Giamaica senza che fosse trovato un accordo sulle modalità di regolamentazione del settore. Un documento brevissimo annuncia la scelta, una pagina e mezza e quattro punti totali che non spiegano bene la complessa situazione né tantomeno i rischi legati all'estrazione dei noduli polimetallici nelle profondità marine. Si legge nel testo che l'ISA intende proseguire l'elaborazione di norme, regolamenti e procedure relative allo sfruttamento in vista di una loro adozione durante la trentesima sessione dell'autorità che teoricamente sarà nel 2025. Tuttavia la data è indicativa, non vincolante e già si anticipa una molto probabile futura approvazione di questi nuovi processi estrattivi. Da nessuna parte invece si parla di una moratoria per bloccare sul nascere lo sfruttamento di questi giacimenti, cosa che invece era stata chiesta da numerosi stati, da cittadini e da scienziati e gruppi di indigeni contrari appunto a questa pratica. Tra l'altro esiste già oggi una sorta di scappatoia a questa non approvazione o mancanza di regolamentazione e si chiama regola dei due anni. Lo spiega in un altro passaggio lo stesso articolo. In pratica il consiglio dell'ISA deve considerare e approvare provvisoriamente le domande di sfruttamento due anni dopo la loro presentazione indipendentemente dal fatto che si siano finalizzati o meno i regolamenti. Ovviamente è una regola che va molto a favore delle grosse aziende che così non devono aspettare le lungaggini dei processi internazionali di accordo o che ci sia appunto un consenso sull'estrazione dei minerali da parte dei vari stati e possono continuare a estrarli e a fare profitto in attesa che arrivi un regolamento purché siano passati due anni da quando presentano la domanda. E negli ultimi anni l'ISA si avvalsa già più volte di questo strumento dando numerosi permessi di ricerca per aree di centinaia di chilometri quadrati a vari stati per esplorare i fondali oceanici. Per i sostenitori del deep sea mining, spiega l'articolo più avanti, l'estrazione sottomarina è necessaria per la cosiddetta transizione energetica e per le nuove tecnologie mentre i critici che vi si oppongono invece affermano che lo sfruttamento minerario in acque profonde non sia necessario per l'approvvigionamento dei minerali e causerebbe invece danni diffuse e di vasta portata agli ecosistemi marini che sostengono la vita sulla terra. E in realtà negli ultimi giorni proprio stanno uscendo alcuni articoli che sembrano suffragare questa seconda ipotesi. Ad esempio è apparso uno studio su current biology, il primo studio a monitorare l'impatto reale del deep sea mining e non a basarsi su stime generiche, che ha dimostrato come appena due ore di estrazione a largo delle coste giapponesi abbiano dimezzato la popolazione ittica anche dopo più di un anno sia in quell'area che nelle zone limitrofe. A giugno 2023 anche l'organizzazione indipendente planet tracker ha pubblicato un rapporto riguardo agli impatti ambientali e ai costi economici delle estrazioni in acque profonde in cui dice tentare di riparare i danni causati dell'estrazione mineraria nei fondali oceanici costerebbe talmente tanto che nelle aziende nei governi pagherebbero per farlo. Le istituzioni finanziarie quindi non dovrebbero supportare il deep sea mining. Infine un recente lavoro pubblicato su scientific reports stima che metà delle specie abissali del pacifico dipenda in qualche modo dalla presenza di noduli polimetallici sui fondali la cui estrazione si tradurrebbe quindi in perdita di habitat e perdita di biodiversità. Insomma queste ricerche sulle conseguenze di questa pratica estrattiva seppur poche seppur ancora molto scarne mostrano comunque degli impatti molto pesanti di questa pratica e per questo molte associazioni e organizzazioni non governative nonché appunto gruppi di indigeni ed esperti hanno chiesto una moratoria quindi uno stop preventivo globale finché non ci siano tecnologie e prove che assicurino un impatto più accettabile sull'ecosistema. C'è poi da ricordare che l'ISA questa organizzazione di cui abbiamo parlato lavora solo sulle acque internazionali mentre sono già vari stati tipo la Norvegia che hanno annunciato la volontà di iniziare dei piani di sfruttamento minerario sottomarino nelle loro acque territoriali sulle quali l'ISA non ha nessun tipo di giurisdizione. Comunque parere personale credo che il deep sea mining sia esattamente il tipo di cosa che non dobbiamo fare o dobbiamo fare il meno possibile per questo cerco ogni volta che parlo e parliamo di transizione ecologica transizione energetica nuove tecnologie energie rinnovabili e così via di affiancare sempre a queste riflessioni anche una riflessione sulla riduzione dei consumi sulla sobrietà sul cambiamento negli stili di vita eccetera eccetera perché questa transizione ecologica sarà sostenibile solo se non avremo bisogno di andare a distruggere i fondali marini per compierla o fare azioni di questo tipo ovvero quindi se consumeremo complessivamente molta meno energia ovviamente tutta prodotta da fonte rinnovabili avremo molte meno macchine ovviamente tutte elettriche eccetera 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 cose di questo tipo da ieri per fortuna si è tornati a respirare in quasi tutta italia anche se in molte regioni si stanno ancora ascoltando i danni del metodo meteo estremo di questa settimana ad esempio in sicilia e puglia ci sono ancora molti incendi a palermo adesso c'è l'allerta di ossina sollevata dall'allega ambiente dopo l'incendio di ieri alla discarica di bello lampo in sardegna sono scoppiati nuovi incendi invece e adesso è una delle regioni che nella giornata di ieri è stata messa più sotto stress dagli incendi a milano sono ancora in corso i lavori necessari per riaprire le strade bloccate a caso degli alberi caduti nel bifragio di due notti fa e solo dopo i soccorritori potranno occuparsi anche degli edifici e dei parchi che sono invece ancora chiusi al pubblico questo rapido aggiornamento però è solo una sorta di premessa per introdurre una nuova anzi due nuove notizie sempre relative al cambiamento climatico e sono due nuovi ulteriori campanelli d'allarme ora so che passata questa ondata di caldo e fenomeni meteorologici estremi molte e molti di noi vorranno solo scordarsi almeno per qualche giorno queste tematiche e pensare ad altro ed è naturale ed è anche sano quindi se siete in questa condizione potete tranquillamente saltare questa notizia e passare a quella successiva non che sia poi particolarmente più allegra ma insomma comunque non parla di questo argomento se volete farlo trovate il minutaggio delle varie notizie in descrizione io dal canto mio però devo darvele queste notizie perché sono notizie molto importanti e quindi mi sento il dovere professionale di parlarne la prima notizia riguarda il ghiaccio antartico e parte dall'osservazione di un grafico sull'andamento appunto del ghiaccio antartico che sta circolando molto in rete grafico che mostra l'andamento anno dopo anno nel tempo dell'estensione del ghiaccio e c'è una variazione che anno dopo anno tende ad avvenire verso il basso quindi verso un'estensione sempre minore ma la curva più o meno resta della stessa forma si sposta solo un po più in basso cioè che vuol dire che la curva cioè la linea è bassa nei mesi estivi poi sale nei mesi invernali e torna a scendere riandando verso l'estate ora quest'anno la curva d'inverno semplicemente non sale adesso è inverno nell'emisfero sud è proprio un'altra cosa è una forma completamente diversa ed è posizionata molto ma molto ma molto più in basso anche rispetto banalmente allo scorso anno quindi c'è qualcosa che ha cambiato drasticamente e vi leggo una spiegazione interessante del fenomeno anche se un po tecnica ma insomma credo che si riesca comunque a seguire e lo faccio rispolverando una vecchia rubrica di questo format ovvero io non mi da social in cui commentavamo e commentiamo le notizie prese da le cose più interessanti che vengono pubblicate sui social network in questo caso vi leggo un post facebook molto chiaro credo di claudio cassardo professore presso il dipartimento di fisica dell'università di torino che scrive non sono sicuro di riuscire a rendere l'idea di quanto inusuale sia il dato di aria di mare ricoperta dal ghiaccio nell'emisfero sud che attualmente differisce di sei deviazioni standard dal valore medio immaginiamo di avere sto facendo un esempio che non c'entra con i ghiacci antartici un insieme di 100 numeri distribuiti secondo la cosiddetta distribuzione normale di gauss che è quella classica curva a campana per intenderci quella che è presente in ogni in ogni cosa abbia a che fare con una statistica così per dirla in maniera molto breve i valori di questo insieme vanno da 978 virgola 4 a 1107 virgola 7 unità non importa quale sia la variabile in questo discorso il valore medio di questo insieme è mille e uno e la deviazione standard è 6 la deviazione standard la conoscerete se masticate un po di statistica è un indice che ci dice più o meno quanto in un insieme di numero di numeri certi numeri differiscono dalla media ora un numero che differisce di sei deviazioni standard continua l'autore del post da quell'insieme ovvero 35 unità è 965 oppure 1036 dall'altra parte della distribuzione vale a dire che in entrambi i casi è un numero totalmente esterno a quello insieme la statistica ci dice che in una distribuzione normale la probabilità di differire di una variazione standard dal valore medio è del 31,7 per cento di due variazioni standard del 4,4 per cento e così via poi dice di sei variazioni standard che il tipo di differenza di cui stiamo parlando nei ghiacci artici antartici scusate che osserviamo oggi è dello 0,0000002 per cento insomma detto in altro modo se avessi un insieme di un miliardo di numeri solo due di essi differirebbero di sei deviazioni standard dal valore medio ma il nostro insieme ha solo cento numeri e le misure dei ghiacci antartici sono solo 33 in realtà quindi ancora meno quindi quel valore non può far parte di quell'insieme di dati come si concilia quindi un dato distante oltre sei variazioni standard dal valore medio in una distribuzione che contiene solo poche decine di dati semplice non ne può far parte cioè i dati che stiamo osservando oggi per dirla tradurla insomma in termini più semplici non rientrano in nessun modo nel tipo di andamento che ci aspetteremmo dai ghiacci antartici ovvero continua è sbagliata l'ipotesi di partenza quella che la distribuzione dei dati sia normale ma siccome quando tanti numeri mi attendo che la loro distribuzione sia normale a meno che non ci sia qualche fattore interno esterno che stia cambiando il sistema questo significa che il mio sistema in effetti sta cambiando in questo caso il sistema che sta cambiando è quello dei ghiacci marini antartici e il fatto che la statistica ci evidenzi che il sistema sta cambiando potrebbe tradursi nell'affermare che si sta superando un punto di non ritorno e questo non è una buona notizia come ovviamente potete immaginare qui finisce il post fatemi sapere se per caso ci sono alcuni aspetti che non sono chiari e magari li chiariamo in qualche prossima puntata la seconda anomalia di cui vi parlavo invece riguarda la corrente del golfo e la rende nota uno studio pubblicato recentemente su nature di cui parla un articolo di ieri sul guardian scritto da damien carrington che scrive le seguenti parole secondo un nuovo studio il sistema della corrente del golfo potrebbe collassare già nel 2025 e questo arresto delle correnti oceaniche vitali chiamate dagli scienziati atlantic meridional overturning circulation che riassumeremo nel resto dell'articolo come amoc avrebbe impatti climatici catastrofici l'amoc che appunto è il nome tecnico di questa che comunicamente chiamiamo corrente del golfo è in realtà un grande sistema di correnti oceanici che trasportano oceaniche scusate che trasportano acqua calda dai tropici verso nord verso l'oceano atlantico settentrionale determinando il clima mite dell'europa questo sistema di correnti in pratica trasporta l'acqua calda degli oceani a nord verso il polo dove si raffredda e affonda per una questione di diversa densità guidando le correnti atlantiche ma l'afflusso di acqua dolce però proveniente dalla accelerazione dello scioglimento della calotta glaciale della groenlandia e anche da altri fonti sta soffocando sempre più queste correnti le sta uccidendo insomma le sta indebolendo molto si sa che l'amoc è già oggi al suo punto più debole da 1600 anni a questa parte a causa proprio del riscaldamento globale e i ricercatori hanno individuato i segnali di allarme di un punto di svolta già nel 2021 ora questa nuova analisi stima un periodo di tempo per il collasso che va fra il 2025 e il 2095 quindi una finestra in realtà molto ampia con una stima centrale del 2050 se non si riducono le emissioni globali di carbonio questa cosa è molto plausibile che accada non si sa appunto esattamente quando ma che accada si tratta come avrete capito di una stima ancora abbastanza grezza grossolana e incerta e altri scienziati sostengono che il margine di incertezza sia troppo grande per fare poi delle previsioni accurate tuttavia quello su cui tutti concordano è che la prospettiva di un collasso dell'amoc è estremamente preoccupante e quindi dovrebbe spingerci a ridurre rapidamente se non immediatamente le emissioni di carbonio ma cosa significherebbe questo collasso di queste correnti leggo ancora più avanti nell'articolo un collasso dell'amoc avrebbe conseguenze disastrose per tutto il mondo interrompendo gravemente le piogge da cui dipendono miliardi di persone per il cibo in india sud america e africa occidentale aumenterebbe le tempeste e le temperature in europa e porterebbe a un innalzamento del livello del mare sulla costa orientale del nord america inoltre metterebbe ulteriormente in pericolo la foresta pluviale amazzonica e le calotte antartiche come ha dichiarato il professor peter di levesen che di di levesen scusate che ha guidato il nuovo studio un professore dell'università di copenhagen in danimarca ha detto penso che dovremmo essere molto preoccupati si tratterebbe di un cambiamento molto molto grande l'amoc non è stato spento per 12 mila anni si tratta di uno dei punti di svolta climatici più preoccupanti per gli scienziati dato che le temperature globali continuano a salire tra l'altro c'è anche un'altra ricerca condotta nel 2022 che ha già dimostrato che 5 pericolosi punti critici potrebbero essere già stati superati a causa del riscaldamento globale di 1,1 gradi centigradi fino ad oggi fra cui l'arresto appunto dell'amoc il collasso della callotta glaciale della groenlandia e un brusco scioglimento del poerma frost ricco di carbonio poi l'articolo prosegue con una serie interminabile di posizioni riportate di vari studiosi e scienziati per mostrare un po il dibattito che c'è su questo tema all'interno della comunità scientifica un dibattito in realtà molto interessante se vi interessa approfondire vi lascio come sempre l'articolo sotto fonti articoli sulla pagina della segna stampa del cambio appunto org comunque il succo del discorso è che riassumendo brutalmente è molto difficile stabilire se si siano già superati dei punti critici non ritorno per quanto riguarda la corrente del golfo oppure no ma vediamo che i segnali che abbiamo non sono dei più incoraggianti e in generale che se quella cosa lì si blocca siamo in grossi casini per cui dobbiamo correre ai ripari il più in fretta possibile un articolo di ieri sulla repubblica titola cresce la richiesta di fentanyl e crolla quella della cocaina così cambia la borsa della droga e parla di come nel mondo si stia assistendo a una vera e propria esplosione di questa sostanza o piaccia il fentanyl il cui nome forse a molti di noi non dirà niente ma che invece è un argomento molto importante molto trattato ed è molto noto soprattutto negli stati uniti pensate che nell'incontro fra il segretario di stato americano anthony blinken e xi jinping avvenuto circa un mese fa il fentanyl è stato uno degli argomenti principali come spiega su open simone disegni il fentanyl è un oppioide sintetico che nella sua versione farmaceutica approvata per la somministrazione viene utilizzato soprattutto negli stati uniti come antidolorifico per lenire il dolore acuto come ad esempio quello procurato da un tumore allo stadio avanzato è considerato fra le 50 e le 100 volte più potente della morfina ma da anni negli stati uniti è esploso il suo consumo di versioni illegali somministrato in forma pura o in combinato con altre droghe che attrae appunto consumatori di cocaina ed eroina con quest'ultima con l'eroina fra l'altro condivide le proprietà tipica che è quella di instillare effetti di euforia ma è stimato di essere circa 50 volte più potente dell'eroina stessa risultato il fentanyl si rivela uno strumento altamente letale e senza un rapido intervento medico può procurare la morte di chi lo assume nel giro di pochi minuti cosa che è successa ed è veramente qualcosa di cui non si parla secondo me abbastanza negli ultimi anni a un numero esorbitante di persone negli stati uniti in particolare soprattutto persone giovanissime vi leggo qualche dato ripreso sempre dall'articolo di open secondo il national center for health statistics a morire per il consumo consapevole o meno di queste sostanze sono oltre oltre 1500 persone alla settimana pensate alla settimana un fenomeno di nicchia diventato un allarmante un allarme scusate nazionale negli ultimissimi anni delle 100.000 vittime di overdose negli stati uniti registrate in ciascuno degli ultimi due anni oltre due terzi sono considerate essere causate dal fentanyl nel 2021 il numero di morti causati da oppioidi sintetici è stato di 67.325 in aumento del 26 per cento rispetto all'anno precedente numeri che fanno di questa la più grave crisi di droga nella storia degli stati uniti eppure non se ne parla quasi per niente se ci fate caso tra l'altro il paradosso di tutto ciò è che questo problema è partito dagli eccessi di prescrizione del farmaco antidolorifico da parte dei medici soprattutto medici di base insomma quello l'equivalente dei medici di base che ci sono negli stati uniti probabilmente ci sono alcune inchieste indipendenti in corso anche per via di una politica di pressione di lobbying da parte della causa farmaceutica che lo produce proprio sui medici di base per spingere a una prescrizione appunto così un po un po facile il problema è che poi una volta prescritto questo farmaco crea una dipendenza altissima per cui anche le persone più insospettabili sono diventate in paesi di pochissimi abitanti magari dipendenti immediatamente da questa sostanza e poi hanno fatto ricorso al mercato nero tant'è che il mercato nero del fentanyl è esploso negli ultimi anni e gli stati uniti sono stati invasi di versioni illegali della sostanza in forma pura o mescolata appunto con altre polveri o all'interno di pasticche ora il problema è che il mercato si sta ulteriormente allargando e oggi a dover gestire una crisi simile sono anche altri paesi come il canada e l'australia in italia come spiega un articolo su avvenire la sostanza è regolamentata in maniera molto rigida ma ciò nonostante recentemente sono stati arrestati alcuni spacciatori che importavano il fentanyl dalla cina e lo vendevano sul dark web o a clienti italiani ed europei comunque credo che sia per adesso un fenomeno residuale e molto marginale e non ci siano indicatori del fatto che in italia questa cosa stia attualmente prendendo piede comunque in tutto ciò che c'entra la cina direte voi c'è perché anthony blinken e xi jinping hanno parlato a lungo del fentanyl beh un po c'entra perché se nella forma commercializzabile diciamo nel mercato nero il fentanyl arriva principalmente dal messico le autorità americane sono convinte che la materia prima ossia le sostanze chimiche grezze di base con cui viene poi assemblato arrivino nel paese soprattutto via nave dalla cina cioè arrivino in messico soprattutto dalla cina via nave e poi i cartelli dei narcos messicani si incaricano di assemblare la sostanza nella forma finale e distribuirla sui mercati nord americani ecco perché da tempo l'amministrazione americana preme perché pechino agisca per fermare sul nascere questo traffico illecito di sostanze killer fino ad ora però le autorità cinesi hanno alzato un muro di indifferenza su questo tema e sono mostrate poco così disposte a collaborare sostenendo che i precursori del fentanyl non siano sostanze chimiche illecite ma sostanze chimiche normalmente vendute sui regolari canali commerciali che quindi non possano regolamentarle o proibirle in alcun modo fatemi sapere se conoscevate già questa notizia se vi ha sorpreso se invece avete altre cose che vi piacerebbe approfondire su questa tematica io prima di chiudere vi ricordo che tra pochi giorni chiude la stagione di non mi rassegno con il 31 luglio poi agosto sarà ferma quasi tutto il mese per riprendere proprio gli ultimi giorni e vi ricordo anche che dall'inizio di settembre ci saranno un sacco di interessanti novità soprattutto per gli iscritti e le iscritte alla newsletter di non mi rassegno quindi io vi lascio qua sotto il link nella descrizione del video su youtube anche nella scheda la trovate in sovrimpressione sul video ci potete cliccare direttamente sopra così come potete cliccare sulla descrizione del podcast su sprigge spotify apple podcast google podcast e qualsiasi cosa contenga podcast nel nome nonché sulla pagina rassegna stampa di tale che cambia.org c'è un apposito bottone per iscriversi alla newsletter in alto quindi è molto semplice se lo fate restate aggiornati e aggiornate su tutte le novità detto ciò io direi che noi ci possiamo salutare qua ci rivediamo comunque domani con una nuova puntata di io non mi rassegno sempre per dire dalle hot screen youtube sprigge di spotify nonché sulla pagina rassegna stampa ogni volta che dico youtube sprigge di spotify mi viene in mente che in realtà sono molte altre le piattaforme su cui stiamo però vabbè diciamo che quelle sono le principali nonché dicevo sulla pagina rassegna stampa di cambia.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto ciao